Eccoci di nuovo con Lettera al Direttore, il secondo candidato sindaco, il sindaco uscente di Salso Maggiore Terme, candidato per la lista EPD e siamo Salso. Buonasera Filippo Fritelli. Buonasera, buonasera. Non perdiamo secondi, subito il suo bilancio di questi cinque anni alla guida del comune. Sono stati cinque anni molto intensi dove ho imparato tanto, quando ho preso l'incarico di sindaco avevo 29 anni, adesso ne ho 34, compiuti da qualche giorno e sono stati cinque anni dove ho conosciuto migliaia di persone, ho fatto esperienze uniche e ho acquisito anche una gamma di conoscenze e di visione delle cose che credo soltanto un'esperienza come questa pubblica possa dare, l'esperienza da sindaco a cui poi si è aggiunta anche quella di Presidente della provincia. Quindi ho fatto tanto, ho visto tanto e devo dire che non mi sono mai tirato indietro, almeno credo. Sono stati cinque anni difficili perché c'era la fase finale, tutti dicono, gli indicatori della crisi, i prossimi cinque potrebbero essere quelli della ripresa a livello nazionale, a livello locale e forse si spera ovviamente per lei anche a livello del Comune di Salso Maggiore. Come può un sindaco aiutare questa presunta ripresa? Un sindaco deve creare le condizioni e sostenere quelle attività e quelle iniziative che sono da impulso alla città. Piano eventi, iniziative turistiche, promozionali, strategiche e soprattutto favorire gli investimenti e gli investitori su Salso, soprattutto in quello che è la grande partita del settore termale, alberghiero e della ricettività. In questi anni abbiamo iniziato, sono stati fatti i primi passi in questo senso, abbiamo affrontato turbini e tempeste, però oggi abbiamo consegnato e riconsegniamo dopo cinque anni ai cittadini una situazione che vede sulla soglia della porta una serie di prospettive reali, concrete, che stanno per realizzarsi e che già sono cominciate. Sono state fatte delle belle iniziative dal punto di vista individuale, importanti investimenti, sia nel settore alberghiero che commerciale. La città ha sofferto, diciamo, in quello che era il settore più tradizionale, quindi alcune attività, soprattutto del commercio, hanno chiuso, come però purtroppo accade in altre località, non solo a Salso Maggiore, però alla fine è come se oggi ci fossero tanti elementi, tanti tasselli di un puzzle che se correttamente riordinati produrranno i frutti veri, reali nei prossimi mesi, anni. Ha parlato di termale, cosa fare su quel tema delicato, vista anche la situazione delle terme? Sulle terme noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, che all'inizio ci sconsigliavano, ossia quella di prendere atto della realtà, fare una fotografia del reale, dire che la situazione così non era più sostenibile, che una vendita in bonus non si poteva fare e quindi aprire una procedura concordataria. Lo abbiamo fatto iniziando un percorso di ingresso di privati che oggi sono in gestione, in affitto d'azienda e che si preparano a comprarla, nel senso che hanno fatto un'offerta d'acquisto vincolante. Verranno fatti dei bandi, quindi delle forme di evidenze pubbliche per esplorare correttamente il mercato. È in essere, si sta avvicinando, un progetto importante sulle terme berzieri, che sono il cuore di salso e il motore della città. Se le terme berzieri funzionano e spingono, spinge tutta la città, per renderle un grande centro benessere di fama nazionale non solo. E su questo noi ci crediamo, abbiamo salvato circa 200 posti di lavoro, le terme erano sull'orlo del fallimento. Oggi la procedura è sì concordataria, ma è all'interno di un principio di continuità e soprattutto di ingresso di privati che sono lo snodo che si aspettava da tanti anni. In questi anni il filo in confidenza si è rafforzato, anche per la sua amicizia con il sindaco Massari, la sua vicinanza con il sindaco Massari. Qualcuno ci ha visto un primo vagito di una possibile fusione tra i due comuni? Diciamolo farebbe di salso e fidenza un comune quasi schiacciassasse all'interno della provincia che potrebbe fare concorrenza con Parma. Vi sono spinto oltre? In questo momento sì, anche se io ho sempre creduto nei rapporti tra i territori. È chiaro che salso e fidenza hanno una naturale complementarietà e quindi ciò che fidenza dà dal punto di vista industriale e artigianale, salso lo può dare dal punto di vista turistico e ambientale. Le due località oggi hanno fatto delle cose insieme dal punto di vista della rete dei servizi, abbiamo unito alcuni uffici, abbiamo portato dei risparmi in termini economici ai nostri enti, abbiamo fatto alcuni investimenti insieme, abbiamo presentato progetti insieme, penso a quello della pista ciclabile che è notizia di questi giorni, verrà finanziata dalla regione, collegherà salso e fidenza i due centri passando dall'ospedale di Vaio, abbiamo la rete distrettuale dei servizi sanitari e sociali che è secondo me un'eccellenza nel nostro territorio, che vede nell'ospedale di Vaio, che in maniera lungimirante fu pensato da alcuni amministratori più di 20 anni fa ormai, circa 20 anni fa un po' meno in realtà, che è l'eccellenza che noi dobbiamo assolutamente salvaguardare per dare quei servizi per tutti. Il processo di avvicinamento c'è, sta un po' nelle cose, oggi credo che parlare di fusione sia assolutamente prematuro, anche se creare un polo forte, salso fidenza, metà strada tra Parma e Piacenza, un polo forte con quella complementarietà che dicevo prima, con quelle caratteristiche che insieme possono crescere, secondo me ci renderebbe un'eccellenza non solo in provincia di Parma, ma a livello regionale e nazionale. Più volte ha sollecitato le autorità sul tema dell'immigrazione, c'è il punto dolente di Tabiano, si sta andando verso una soluzione, come aiutare ancora di più perché si vada a una soluzione di quel problema e in generale le sue ricette per questo tema futuro? Parlavo prima di turbini e tempeste sulle terme, qui è stato anche peggio, nel senso che all'inizio del mio mandato mai mi sarei aspettato di dover affrontare una situazione di questo tipo. su questo tema ha sbagliato il mio partito, io ho fatto la mia guerra personale, guerra politica contro i vertici del mio partito che negli anni tra il 2014 e il 2017, guardi è molto identificabile anche dal punto di vista del periodo, direi maggio 2014, luglio 2017, la situazione era esplosa ed era assolutamente fuori controllo, si era creata nella storia della Repubblica Italiana una cosa senza precedenti, i prefetti erano contro i sindaci, in molte parti d'Italia sono successi dei conflitti, questa storia io non l'ho mai accettata, non l'ho mai digerita e credo che il mio partito l'abbia pagata dal punto di vista elettorale, non perché non debba essere fatta solidarietà, ma perché si era alimentata una situazione che era assolutamente ingovernabile, fuori controllo e che aveva delle punte anche di indecenza. Oggi la situazione si è risolta grazie ad un bravo ministro dell'interno che si chiama Marco Minniti, che ha ridotto del 78% su base anno agli sbarchi, grazie alle nuove politiche nazionali ad una presa di consapevolezza di tutti e al fatto che noi abbiamo, secondo me, portato avanti una partita anche di accreditamento SPRAR presso il Ministero che ci consentirà, se verrà autorizzata prossimamente, di avere un numero limitato di persone gestite correttamente su base pubblica e su un processo di formazione e inserimento lavorativo che dovrà essere fatto con serietà e sotto legida del pubblico, non sulla base di quel privato che può, anche per uno stato di bisogno, però svegliarsi la mattina e chiedere dei profughi, questo non andava bene. In migrazione, lo collego sempre, ma non è esattamente così, c'è il tema della sicurezza, che cosa fare su questo tema? Ovviamente i cittadini vi interpellano ogni minuto, non ogni giorno, ogni minuto. Ed è giusto perché è un tema molto sentito, ci sono più iniziative da portare avanti. La prima, di stretta competenza comunale, aumentare il numero dei vigili, quindi della polizia locale. Siamo già fuori con un concorso, abbiamo un'assunzione che è fatta in questi giorni, una graduatoria a cui attingeremo perché nel piano assunzionale triennale prevediamo l'aumento del numero di vigili, per tornare a quelli che sono i parametri di legge, che purtroppo molti comuni causa limitazioni assunzionali e non rispettano, ma noi su quello vogliamo investire. Abbiamo attivato il controllo di vicinato, in alcuni mesi sono nati spontaneamente, un po' su sollecitazione nostra, ma comunque nell'interlocuzione con noi e le forze dell'ordine, 10 gruppi di cittadini autogestiti che come si sta facendo in tante parti della provincia e non solo stanno diventando esempi virtuosi, che non sono soltanto la caccia al ladro, ma che sono un modo secondo me moderno di fare attività di comunità. Altra cosa, investimento in tecnologie, telecamere, nuove telecamere, abbiamo preso un finanziamento regionale da 35 mila euro, installeremo 4 CR, 4 telecamere normali in più i nuovi ingressi della città che sorveglieranno le entrate e le uscite da Salsomaggiore e da Tabiano, appunto dove andranno messi alcuni di questi. Io credo che l'attività poi sia corale, cittadini, forze dell'ordine, pubblica amministrazione, nuove tecnologie, tutti insieme nella cura e nella salvaguardia di quello che è il nostro territorio. Ultima cosa, l'11 giugno o il 25 giugno, riapre con la chiave l'ufficio, si risiede, la prima cosa che fa da nuovo sindaco, anzi da confermato sindaco? No, in realtà non l'ho mai smesso, perché in queste ore sommo ruolo di candidato e di sindaco che insomma ha la sua particolarità, era un'esperienza che non avevo provato. La prima cosa da fare, in realtà rispondo seriamente, è quella di presentare immediatamente in Regione il progetto, che è un progetto di finanziamento e di rigenerazione urbana sulla base del bando che la Regione ha emesso, che è fuori e che scade nel mese di settembre. Abbiamo presentato una progettazione esecutiva seria, mira a mettere, diciamo, in salvaguardia, riqualificare il nostro Parco Mazzini, che è il polmone verde di Salso. Una riqualificazione conservativa, in cui la Regione ha creduto molto, che è partita con un concorso di idee tra liberi professionisti e che ha come obiettivo quello di mettere in contatto i grandi contenitori pubblici, termali e produttivi di Salso che parallelamente vanno avanti con il loro percorso di riqualificazione e sviluppo. Questa è la prima cosa che va fatta quest'estate. Poi la gestione del piano eventi, perché noi vogliamo una Salso viva e vogliamo che il piano eventi sia pieno, come abbiamo fatto in questi anni, fino a ottobre, novembre e non solo, perché ogni settimana, ogni weekend ci sia qualcosa da fare, perché questo sia un volano per portare le presenze turistiche. Grazie a Filippo Fritelli, sindaco e candidato sindaco delle liste PD e Siamo Salso. Buon lavoro e buona campagna elettorale, ultimi giorni di campagna elettorale. Grazie.